Verso le 9.10 mi ero appena alzata e ho sentito un buato, ma pensavo fossero dovute ai lavori, niente di più. Un buato e poi maceri dappertutto. Racconta così questa turista il crollo del solaio, avvenuto nell'ex scuola materna di via Leonardo da Vinci di Santa Maria di Leuca, costato la vita a Francesco Panzarino, 58 anni, di Bitonto, operaio edile per conto della ditta del cognato che si raggiudica dei lavori di riqualificazione dello stabile di proprietà comunale, chiuso già cinque anni fa proprio per problemi di staticità e che da progetto sarebbe dovuto diventare un museo per il corallo bianco. Il mio cognato, è morto un padre di figlia, un ottimo lavoratore, come tutti i lavoratori. Sotto sciocco gli altri due operai rimassi miracolosamente in columi alla valanga di detriti venuta giù durante le fasi di demolizione del solaio. Inutile il disperato tentativo dei vigili del fuoco di estrarlo ancora in vita dalle macerie. Abbiamo proceduto a scavare con le mani letteralmente, a tirare via le macerie, mattoni, travi e quant'altro. L'abbiamo trovato quasi subito. Ma non c'è stato nulla da fare? No, non c'è stato, sta proprio coperto da macerie tutto quanto. La procura e lo special hanno aperto un'inchiesta affidata ai carabinieri. Lo stabile è stato posto sotto sequestro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, anche quella di un fatale errore umano, come farebbe ipotizzare un muro portante venuto giù. Grazie. Grazie.